è una situazione in cui tutti pensano che catilina ce la farà gaio antonio un suo grande amico sodale politico la cosa gli fu molto a lungo rinfacciata veniva definito anche quando ormai era console un catilinario perché è molto probabile che catilina vinca perché ha mobilitato i famosi italici cioè a tantissima gente soprattutto in etruria in altre parti d'italia che verrà a votare per lui cosa insolita prima l'ho detto il diritto elettorale ce l'hanno tutti però poi effettivamente non lo esercitano sistematicamente aveva molti legami per esempio in un'area della penisola l'etruria che era piena di ex legionari di silla che si erano rovinati economicamente pur essendo stati gratificati di terre espropriate ai proprietari e date a questi legionari da silla i famosi cornelli migliaia di persone che erano state incapaci di amministrare queste terre piccole o grandi proprietà che gli erano state date perché erano stati legionari di silla lui li conosceva molto bene aveva precisi riferimenti tra di loro e questi venivano sarebbero pronti a venire a roma per votare per lui quindi è una minaccia perché una minaccia perché questo uomo che abbiamo lasciato come sillano e come pessimo governatore della provincia d'africa si è legato sempre più ad un personaggio molto influente l'uomo più ricco di roma marco licinio crasso che poi finirà male nella battaglia di carre mesopotamia nell'anno 53 però qui siamo dieci anni prima crasso gli paga le campagne elettorali quindi lui può come dire avere una buona speranza di successo crasso ha un problema catilina è un po una pedina di questo personaggio molto più influente di lui e il suo problema si chiama pompeo che è stato collega di crasso nell'anno 70 quindi sette anni sei anni prima di ciò che stiamo ora raccontando e insieme i due che erano in grande rivalità hanno stabilito un compromesso sono stati consoli hanno demolito alcuni punti particolarmente antipopolari della costituzione sillana pompeo ha avuto un seguito enorme come comandante militare anche suo padre era stato un generale sillano molto autorevole e con l'aiuto di un emergente personaggio della politica cioè cicerone per l'appunto ha avuto dei comandi straordinari il più importante a rigore quello contro i pirati la pirateria era un fenomeno talmente diffuso in tutto il mediterraneo da rendere molto faticoso il commercio è pericoloso soprattutto a pompeo viene dato un potere enorme su iniziativa su forte sollecitazione abilissima di cicerone e di una parte del senato che naturalmente gli va dietro e cioè un comando su tutte le coste del mediterraneo che è una forma di potere anomala perché per poter creare un blocco navale formidabile togliere il terreno di cultura alla pirateria e sconfiggerla molti pirati poi passarono al servizio di pompeo lui li piazzò in qualche colonia in italia e loro si adattarono molto bene naturalmente dopodiché gli viene dato un secondo comando militare importantissimo e cioè completare la durissima campagna contro mitridate l'ultimo grande sovrano ellenistico potremmo dire no re del ponto ma in realtà capace di mobilitare l'asia la provincia d'asia la grecia a un certo punto anche atene si è schierata con mitridate contro roma poi gli male gliene incolse ecco mentre pompeo ha questa fulgida carriera conquisterà la siria chiuderà la dinastia seleucide tentato addirittura di andare in egitto ma poi si ferma crasso è ricchissimo è potentissimo ma non ha questo teatro diciamo politico così promettente come quello che pompeo da lontano si sta preparando e manovra catilina si parla si ne parla uno storico che è stato molto implicato in queste storie salustio altra lettura scolastica famosa non so se ancora vigente in un libro piccolo e formidabile dal punto di vista della vivacità della ricchezza dell'intelligenza e anche se vogliamo della ribalderia che il bellum catiline o decatiline con un relazione non un libro molto come dire attesi schierato in cui ad ombra una prima congiura non dice i nomi veri perché questa presunta prima congiura che forse ci fu effettivamente noi la conosciamo bene da un'altra opera completamente diversa molto più tardiva no del tempo degli antonini ma fondata su documenti la vita di cesare di svetonio allora diciamo la vera verità se possiamo usare questa parola molto impegnativa è che crasso ha concepito la possibilità di far fuori in maniera brutale i consoli dell'anno 66 eletti nel 66 per il 65 e assumere la dittatura nominando cesare suo magister equitum ma cesare all'ultimo minuto si tira indietro molto più acuto di crasso nel valutare le possibilità concrete di azione e quindi questo è un non fatto cioè è un progetto fallito secondo sallustio l'uomo era catilina ma catilina non c'entrava nulla in questa storia perché crasso fa questo perché si pone il problema di assumere nella città in italia un potere tale da contrastare il suo rivale che sta conquistando il mondo siamo da capo alle prese con le elezioni quella crisi viene superata i consoli non vengono fatti fuori crasso non assume la dittatura si vota per l'anno 63 nell'anno 64 abbiamo detto i candidati sono catilina cicerone gaio antonio poiché catilina ha un alleato di ferro in antonio in gaio antonio e un avversario debole in cicerone cicerone un homo novus catilina discende da una famiglia di antico lignaggio è uno che viene da arpino che adesso ha un nuovo sindaco e catilina in senato in un momento molto aspro di contrasto lo definì inquilinus urbis rome tu sei non sei un romano sei un inquilino della città di roma era il consolo in carico in quel momento cicerone quindi è considerato debole un personaggio si concorre ma perderà tanto più che ha fama più o meno fondata di simpatie populares simpatie per un mondo che si contrappone all'oligarchia senatoria d'altronde l'homo novus molto probabilmente ha questo orientamento in generale che vuol dire poi l'homo novus vuol dire che non ha antenati che hanno ricoperto le due supreme cariche pretura e consolato apro una piccolissima parentesi quando si parla di nobilitas nobilità a roma si intende una cosa precisa che cioè l'homo novus se riesce a diventare console completa il cursus honorum ma non diventa nobile il figlio di lui è nobilis perché suo padre è stato console quindi è una nobiltà che si conquista a parte l'antico lignaggio di grandi famiglie patrizie o di antica nobilità plebea cicerone è l'ultimo arrivato colpo di genio probabilmente promosso da lui medesimo nella sua abilità notevolissima le due classi di censo fondamentali la cui alleanza produce la maggioranza elettorale nelle centurie che è una maggioranza ripeto di centurie ma non di votanti non lo diciamo ai nostri politici che se gli viene in mente di fare un meccanismo simile siamo rovinati si coalizzano quindi senatori e cavalieri si alleano e puntano su di lui come candidato e vince per un soffio lui ha sempre detto tutte le centurie hanno votato per me non sappiamo sta di fatto che catilina è sconfitto ancora una volta quando era chiaro che avrebbe vinto e invece gaio antonio viene eletto che il contrasto a quel punto era cicerone catilina entriamo nell'anno 63 primo gennaio i consoli entrano in carica il primo gennaio i tribuni della plebe il 10 dicembre quindi a gennaio sono già in carica i nuovi tribuni della plebe eletti diciamo entrati in carica 20 giorni prima secondo salustio ma se lo fa capire anche cicerone le tante volte che parla di queste storie già allora quando incomincia l'anno 63 catilina che è stato sconfitto nelle elezioni svoltesi pochi mesi prima ha dato vita alla congiura cioè al tentativo di prendere il potere con la forza attraverso un patto con gente affiliata e pronta a usare le armi a liquidare diciamo le autorità legittime con i razio per l'appunto sarà vero abbiamo delle prove concrete di questo difficile dirlo purtroppo la tradizione storiografica o anche chiamiamola documentaria cioè le orazioni ciceroniane il suo epistolario che però sull'anno 63 carente non c'è quasi nulla per quell'anno tendono a sostenere che l'idea di prendere il potere con la forza nasce in catilina quando ormai la sconfitta elettorale dell'anno 64 lo ha convinto di non farcela in realtà lui si candida anche alle elezioni che si svolgono nell'anno 63 sotto il consolato di cicerone e gaio antonio in vista dell'anno 62 quindi c'è un po' una contraddizione tra l'idea che quest'uomo sta ormai passando alla lotta armata e che però in realtà concorre e si impegna moltissimo nelle elezioni che si dovrebbero svolgere come al solito più o meno nel mese di luglio in vista dell'entrata in carica poi a gennaio anche questa volta lo ammettono i suoi denigratori il cicerone e san lustio in primis una grande mobilitazione in tutta italia è partita a suo favore qual è la risorsa a questo punto? rinviare le elezioni chi decide la data delle elezioni il cui meccanismo, ripeto, spero sia chiaro è molto complicato è molto passibile di manomissione i consoli e potremmo dire senz'altro il console perché gaio antonio per questa nomea forse fondata di legame con Catilina di amicizia con Catilina è paralizzato è fermo non osa contrastare il suo collega più ingombrante quando cicerone dopo l'anno consolare parlerà di queste cose per esempio in un'orazione prosestio dice tutto il male possibile di gaio antonio dice io sono stato costretto ad un servizio di spionaggio a suo danno il questore addetto al console antonio era una mia spia che mi informava passo passo su quello che lui faceva quindi gaio antonio è lì sotto scacco rinvio rinvio paradossale perché da luglio si decide che la data è il 21 di ottobre questo cosa determina in concreto è uno sbandamento radicale proprio completo degli elettori che sono venuti apposta per votare per Catilina i quali non possono rimanere a Roma mesi e mesi se ne tornano nelle loro sedi e nel frattempo Cicerone mette in atto due operazioni una potremmo dire non visibile potenzia il suo servizio di spionaggio di informazione avendo delle persone dentro l'entourage di Catilina Sallustio ne parla dando dettagli anche un po' personali morbosi su queste una donna il suo amante va bene Sallustio ha una vena narrativa un po' da Feiton ogni tanto però magari sarà anche vero non possiamo essere così diciamo scettici prima di procedere però va chiarito un punto che vuol dire coniurazio vuol dire che un gruppo di persone si sono strette in un patto per ottenere un certo obiettivo è legittimo non è legittimo si potrebbe dire il patto fra Pompeo Cesare e Crasso nell'anno 60 cioè tre anni dopo questi fatti che va sotto il nome di primo triunvirato è una conspirazio cioè un patto segreto noi lo sappiamo bene perché ne parla con precisione ancora una volta Svetonio e descrive anche le clausole di questo patto segreto i tre che sono il signore degli eserciti Pompeo il più ricco proprietario Crasso è un politico emergente che ha dalla sua parte la plebe urbana cioè Cesare si mettono d'accordo e nulla si deve fare nella Repubblica che non sia approvato da tutti e tre e nessuno dei tre può prendere iniziativa che non sia approvata dagli altri due noi non abbiamo i libri di Livio che raccontavano queste cose ma abbiamo i riassuntini le cosiddette perioche e nel libro 103 lui parlava di questo e dalla perioca ricaviamo che definiva questo patto conspirazio allora sdrammatizziamo il termine coniurazio che ha una differenza presenta una differenza rispetto al conspirazio cioè il fatto che c'è un patto giurato su questo patto giurato si è molto ricamato no Sallustio riferisce la notizia che quando Catilina raduna in casa sua una ventina di persone che sono i componenti di questa coniurazio il patto tra costoro viene siglato in maniera macabra un bambino viene ucciso e col suo sangue si fa una libagione mescolando il sangue al vino poi Sallustio dice hanno detto questo ma a me non risulta frase curiosa accanto a tante altre dei primi capitoli del suo libro perché si capisce chiaramente che lui giovanissimo aveva venti anni ventidue anni in quell'anno lì ha frequentato l'ambiente catilinario quindi ne parla conoscendolo direttamente noi escludiamo tutto sommato la verisimiglianza di questa operazione macabra ma sappiamo che per esempio anche negli ambienti aristocratici ma anche molto prima anche nell'antica Atene per esempio commettere tutti insieme un reato e il vincolo per un patto segreto famosa mutilazione delle erme ad Atene nell'anno 415 era lo strumento di un patto tra aristocratici che si accingevano ad abbattere la democrazia atenese non ci riuscirono allora ma ci riuscirono quattro anni dopo lasciamo impregiudicata la modalità di questa coniurazio ci fu un patto fra un gruppo molto ristretto di persone di cui Caterina si fidava alcune a torto perché lo tradirono diventando informatori di Cicerone ma qual era il programma perché Caterina ottiene tanto successo da avere persone che lo vengono a votare da tutte le parti d'Italia e da costituire un pericolo per i poteri costituiti cosa vuole perché qual è il suo programma la domanda è legittima stiamo parlando di quest'uomo da vari minuti però vorremmo capire che vuole perché si è così cociutamente impegnato lo abbiamo lasciato ho detto prima Sillano governatore di provincia eccetera ora è l'uomo di Crasso il quale ha accanto a sé Cesare come diciamo Scherano sicuro e il suo programma è un programma radicale la cancellazione dei debiti di solito questa presentazione viene interpretata in modo se vogliamo un po' riduttivo e comunque abbastanza ostile erano dei nobili decaduti che si erano rovinati per la vita sregolata che conducevano indebitati fino alla cima dei capelli e quindi il loro programma politico in realtà era semplicemente un tentativo di scrollarsi di dosso dei debiti ormai impossibili da pagare o da saldare non è così nel senso che il fenomeno dell'indebitamento soprattutto nella parte più povera della popolazione urbana oltre nei municipi abbiamo raccontato questi legionari sillani che si sono rovinati non essendo capaci di amministrare i loro fondi l'indebitamento è un fenomeno di massa e lo sappiamo non abbiamo una storia economica di Roma raccontata da storici romani perché la storiografia antica è essenzialmente politica politico militare politico diplomatica alcuni no Tucidide parla molto delle finanze ateniesi ma è un'eccezione non è così frequente nel De Bello Civili nei commentari sulla guerra civile di Cesare un libro fondamentale modello di prosa latina all'inizio del terzo libro Cesare parla molto approfonditamente del problema dei debiti nel senso che quando lui ha varcato il rubicone e ha aperto diciamo le ostilità contro la Repubblica e insorto contro la Repubblica nel gennaio del 49 gran parte della popolazione soprattutto di condizione povera indebitata ha sperato che lui cancellasse i debiti cosa che non ha fatto ma ha scelto una via mediana che descrive molto bene nei primi capitoli del terzo commentario della guerra civile questo cosa vuol dire vuol dire che il problema debiti era un problema generale allora il programma di Catilina non è un programma in usum delfini cioè per sanare le proprie finanze personali è un programma che incontra un grande favore lui lo dice abbiamo finora parlato di lui attraverso altri no abbiamo due frammenti chiamiamoli così autentici forse forse sì uno è una lettera che lui scrive ed è incorporata dentro l'opuscolo di Sallustio dal capitolo 35 del Bellum Catiline o Deconiurazioni Catiline come di solito lo si intitola scolasticamente in questa lettera che lui scrive subito dopo essere stato minacciato in maniera abbastanza ricattatoria e costretto a lasciare Roma pur essendo senatore e non essendoci contro di lui prove concrete di nessun genere siamo all'otto di novembre dell'anno 63 la scrive lasciando la città ad un suo antico amico e anche difensore in una causa molto complicata in cui era invischiato tanti anni prima quinto Lutazio Catulo una lettera notevole Sallustio la trascrive e dice ecco l'exemplar cioè trascrivo letteralmente è un bel colpo diciamo avere almeno una lettera di Catilina tra tante parole dette contro di lui da persone che non lo apprezzavano molto e in questa lettera dice che respinge tutte le accuse che si rivolgono contro di lui tanto più che per tutta la vita e qui mente perché per tutta la vita è un po' troppo ho sempre assunto su di me causam miserorum la causa dei miseri ma i miseri non sono genericamente i poveri sono quelli che sono in una condizione di non farcela cioè gli indebitati causam miserorum il grande concetto Marchesi che era non dico un ammiratore di Catilina ma certamente un disistimatore di Cicerone coniò l'espressione la faccio miserorum cioè Catilina era il capofila del partito dei poveri della faccio miserorum la parola faccio in realtà non c'è in quella lettera causam miserorum l'altro frammento che abbiamo se vogliamo è ancora più interessante perché la lettera poi finisce in maniera molto affettuosa affida all'Utazio Catulo che è un senatore autorevolissimo più vecchio di lui di età la difesa di sua moglie amatissima moglie di Catilina Orestilla su cui Sallustio riesce a dire nota soltanto per la sua bellezza quindi insinua anche poco di buono anche la moglie di Catilina va bene lasciamo perdere questo linguaggio sempre un po' insinuante Orestilla chiede Catilina a Lutazio Catulo che non subisca le conseguenze dell'eventuale sua rovina personale l'altro frammento dicevo è più interessante e lo troviamo in una orazione ciceroniana della quale dobbiamo dire qualcosa adesso in difesa di Murena chi è questo signore Murena è il personaggio che insieme con un collega meno diciamo inquietante di lui ha vinto le elezioni dell'anno 63 per il 62 cioè quelle elezioni che sono state rinviate da luglio al 21 di ottobre ma che non si sono svolte il 21 di ottobre perché il giorno prima le spie e gli informatori di Cicerone gli fanno sapere che in casa di Catilina si è svolta una riunione pre-elettorale si deve votare il giorno dopo nella quale Catilina ha manifestato ancora una volta il suo programma sui debiti sulla cancellazione dei debiti Cicerone avendo questa soffiata convoca d'urgenza il Senato per il giorno 20 giorno prima la vigilia delle votazioni drammatizza la situazione dicendo la Repubblica è in pericolo perché Catilina promette la cancellazione dei debiti convoca il Senato per il giorno dopo annulla la data elettorale a data da destinarsi quindi non si vota neanche il 21 il 21 si raduna il Senato Catilina è presente Cicerone lo attacca chiedendogli conto di quello che ha detto a casa sua in privato sulla base di informazioni delle quali non può indicare la fonte perché sono i suoi informatori e lui non li vuole bruciare Catilina gli risponde per le rime e Cicerone riferisce sia le parole dette in privato a casa sua da Catilina intorno al programma antidebitorio sia le parole che Catilina gli ha detto replicandogli in pubblico nella seduta senatoria cosa gli ha detto respingendo drasticamente nella certezza di essere in grado di reagire senza subire un danno la Repubblica ha due corpi una metafora uno debole e con una testa che non ragiona uno forte senza testa io sono pronto a mettermi alla testa di questo corpo forte il corpo forte è il populus romanus il corpicino debole è l'oligarchia senatoria quindi in questa risposta molto iattante diciamo molto forte lui dice a Cicerone tu sei il console sei il capo che non ragiona di un organismo fragile quale è appunto l'oligarchia io sono pronto a cappeggiare tutti gli altri a questo punto però Cicerone ottiene un senato consulto eccezionale cioè la proclamazione dello stato d'assedio potremmo dire quello che i moderni chiamano senatus consultum ultimum che contiene una formuletta così la chiama Cicerone in un altro discorso videant consules i consoli si diano pena si diano pensiero ne quid res pubblica detrimenti capiat affinché la repubblica non subisca danno è la formula dello stato d'assedio della proclamazione dello stato d'eccezione che dà ai consoli poteri di gran lunga superiori a quelli normali e li autorizza anche a ricorrere a una guardia armata Cicerone si costruisce una guardia del corpo enorme fatta tutta di cavalieri che è il suo ceto poi sociale ma non addita un nemico esplicito questo è il punto delicato proclama lo stato di pericolo non avendo le prove per incriminare qualcuno come responsabile del pericolo Catilina abbandona immediatamente la seduta del senato e Cicerone rievoca tutto questo nell'orazione in difesa di Murena dicendo in quella seduta bisognava ammazzarlo sul posto non consentiti di uscire dal senato perché sta difendendo Murena e il processo si svolge a fine novembre perché le elezioni si sono effettivamente svolte forse il 28 di ottobre forse addirittura il 4 di novembre si può discutere su questo in una situazione assurda in cui il console è armato fino ai denti c'è lo stato d'assedio i comizi elettorali si svolgono sotto controllo di uomini armati gran parte degli elettori di Catilina se ne sono tornati in Etruria e Catilina è sconfitto ancora una volta e siamo alla fine dell'anno 63 per i consoli dell'anno dopo è in quel momento che Catilina sceglie la lotta armata quando per la terza volta gli viene impedito il consolato in una situazione di palese violazione della legalità svolgere le elezioni durante lo stato d'assedio questo è il nodo della questione dal punto di vista dei rapporti conflittuali esasperati fino all'estremo però succede sempre c'è sempre un imprevisto in quella tornata elettorale quella che appunto doveva farsi a luglio rinviata al 21 ottobre protratta addirittura di un'altra settimana forse di due settimane in quella tornata oltre Catilina medesimo candidato e oltre Murena e decimo Silano che sono i due che poi vengono eletti c'era un altro candidato Servio sul picio rufo grande giurista grandissimo giureconsulto il quale era scandalizzato non della probabile vittoria di Catilina ma dei brogli elettorali spaventosi che Murena aveva attuato per vincere le elezioni Murena era un satellite di Licinio Lucullo che stava fuori di Roma con le sue legioni voleva celebrare il trionfo gli veniva impedito Cicerone autorizza questo trionfo quindi masse di legionari di Lucullo vanno a votare votano tutti per Murena e Murena riesce Sergio sul picio rufo intenta un processo a Murena per brogli elettorali di ambito chi è il difensore l'avvocato che difende Murena ed è a ridosso delle elezioni medesime il console in carica cioè Cicerone è l'avvocato di Murena ed è il console in carica in un processo per corruzione che ha violato una lex Tullia cioè una legge emanata da Cicerone medesimo contro i brogli elettorali paradosso paradosso nel paradosso è che un fedelissimo della parte diciamo aristocratica oligarchica chiamata come vi pare è Catone futuro suicida di Utica discendente del vecchio Catone censore Marco Porcio Catone il quale anche lui si unisce sul picio rufo in questo processo Cicerone li sbeffeggia dicendo sono degli imbecilli non hanno capito che se Murena viene condannato torna in pista Catilina stravince il processo è in questa sede che rievoca la seduta segreta in casa di Catilina e la seduta in senato che ha proclamato il senato consulto ultimo la vicenda successiva è presto detta Catilina lascia Roma dopo un presunto attentato che in realtà non c'è stato e che è l'occasione della prima Catilinaria quousque tandem famoso dice di volersene andare in autoesilio a Marsiglia ma in realtà va in Etruria dove ci sono gli uomini suoi di fatto già pronti a combattere con le armi in pugno contro le legioni del console e nella speranza di avere una grande mobilitazione e secondo alcuni anche nella speranza che la crisi a Roma precipiti perché ci sono gli altri catilinari pronti all'azione l'entulo sura e altri i quali invece si fanno cogliere con le mani nel sacco in maniera ingenua diceva Momsen rivoluzionari da operetta assolutamente incapaci perché catturano il consenso diciamo l'interesse di alcuni ambasciatori della popolazione gallica degli allobro oggi venuti a Roma per protestare contro le vessazioni fiscali della Repubblica contro questa popolazione loro vengono avvicinati da l'entulo e dai suoi amici Cicerone immediatamente informato di questo li induce a far credere che loro stanno al gioco purché mettano per iscritto so